A tutti con le mani! Asciamoli! Tutta la piazza! Tutti! E' il centenario! Non state tutti attenti per essere quella del centenario! Quindi che cosa significa? Tutta la desideretta, dille e cellulare! Asciate la voce all'impossibile! Va bene? Asciamolo da centenario! E' la forza importante! RIVORTIAMOCI! Questo manca! Faccio un minuto! Faccio un minuto! RIVORTIAMOCI! E... Guardatevi! RIVORTIAMOCI! 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 Atenzione! Atenzione! Grazie a tutti. 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 a tutti.